Le videonotizie di distribuzione moderna. Al Cibus 2024 portiamo la caramella di bufala, che è una mozzarella di bufala farcita con un cuore di ricotta di bufala, quindi un prodotto pensato per un target bambini, un prodotto assolutamente con un gusto morbido e ricco. I nostri packaging sono tutti pensati in monomateriale, quindi facilmente riciclabili, e dove è possibile packaging in carta. L'importante è che sia fondamentale che tutti gli imballaggi siano facilmente riciclabili, quindi in monomateriale. Per noi la sostenibilità è una scelta etica, quindi la applichiamo in tutte le attività dell'azienda. In primis noi abbiamo una sostenibilità pensata in ottica di filiera. Infatti noi lavoriamo costantemente alla ricerca di una filiera integrata e circolare. Cosa significa? Che noi ci produciamo i nostri foraggi per le nostre bufale, che fanno ovviamente il nostro latte, per fare le nostre fantastiche mozzarella, ma ci produciamo anche l'energia per alimentare. Ormai l'85% dell'energia che consumiamo ce la autoproduciamo attraverso pannelli fotovoltaici oppure l'utilizzo del biogas. I progetti fondamentalmente sono concentrati sotto tre pillar fondamentali. Uno, nuovi prodotti, ad esempio la caramella di bufala. Due, un approccio di un packaging più differenziante e lineare, quindi stiamo riposizionando l'estetica dei nostri imballaggi, un'estetica più premium e tre, un miglioramento della qualità della nostra mozzarella. Quindi stiamo lavorando e costantemente operando e investendo al fine di garantire al nostro consumatore una mozzarella sempre più buona e sempre più fresca. Grazie per la visione!